Però effettivamente il primo tempo dopo un inizio proprio un po' horror li abbiamo messo in grave difficoltà. Il secondo tempo con lo spostamento di lì ci va alla corsa al porto di Galli e praticamente ok, non trovavo più le visione, non riuscivamo più a giocare come diciamo l'ultima metore del primo tempo. Anche se poi dopo qualche opportunità perché va a esserci comunque la tecnica di Gasbarroni, l'esistenza di Perna, qualche inserimento sulle facce abbiamo anche poche delle buone opportunità, per esempio quella di un piano di Perna e così via, la buonissima opportunità. Una sconfitta diversa da quella delle altre questa? Beh credo che ci sia poco da riproverare anche ai ragazzi insomma alla nostra squadra. C'era ripeto, al di là dei primi 7-18 minuti di partenza, c'è stato nel secondo tempo con lo spostamento lì ripeto che almeno mi dà qualche sensazione qua. Trovavamo difficoltà a frenare perché trovavamo la buccia qua e metto il campo di testo di piedi del Zamparo le prendeva tutte. e lui con i menti a sinistra e lo spostamento anche lì in il centro-destra si creava qualche riciclottante. non capivamo bene neanche come risolvere, però non è che creassero chissà che cosa, anzi noi abbiamo la sensazione che qualche ripartenza potesse portare anche a far gol, no? Assolutamente. E infatti ci sta anche, perché anche prima della traversa, prima del gol di queste punizioni c'è stata credo l'evolazione lì con il proprio testo di perna. Oggi ripeto, al di là del discorso tattico nel poter capire cosa si poteva fare in più con quello spostamento lì che hanno fatto loro, come fare una buona metà campo di questa quarta perché il centrocampista di Cacavarotti è di qualità antevole è stata lì la differenza oggi la Bussa è un grande giocatore insomma, no? e vedi, ci hanno messo un pochettino di difficoltà, poi senza pensarti a che abbiamo creato non mi parla almeno, no? Il discorso è che poi si prende sempre gol con la continuità dell'ultima mezz'ora del primo tempo perché loro sono riusciti a mettersi in attività appunto non so se poi è stato solo questo cambio qua nell'uscita di Galli con il spostamento centrale di Vallagussa e lo spostamento a destra di questo Cacavarotti che conseguentemente chi mette a sinistra, non so, può essere quello, non lo so può essere che si è affalato lui può essere che il metodo del campo abbia trovato qualche difficoltà in più nonostante questo qualche spazzo andavamo meno di continuità ma più di spazzi abbiamo avuto buone opportunità quindi così diventa difficile chiedere anche ai ragazzi certo che non lo so ogni volta ogni volta si perde poi abbiamo perso abbiamo preso il gol dopo sei minuti e diciamo che al di là del non voglio togliere il merito loro ma anche le nostre negligenze ma dopo non c'è stato come per esempio quella che aveva fatto una settimana o l'altra l'ultimo in casa un calo man mano ha radonato nonostante qualche sul gol preso specialmente il primo c'è sempre qualche errore un giro palla nostra che poi dopo la rubata loro questo è partito è a Galli dopo che si è fatto male ne ha saltati 2 o 3 poi sta in area diventa difficile anche potrà entrare c'è paura di di far qualche danno di rigore ok lui ha avuto altro e mezzo di pallo poi credo l'ha già fatto qua in mezzo in mezzo in mezzo in mezzo sicuramente la partenza era meglio loro poi l'ultimo metodo meglio noi poi il secondo tempo quando è uscito questo secondo me almeno ho trovato una buona misura ripeto nel non farsi giocare con continuità come nel primo tempo però le occasioni abbiamo ottenuto almeno non perde assolutamente ecco che abbiamo preso il secondo è mancata un po' la copertura dei difensori sulla punizione no lo l'ho detto adesso al di là di tutto il portiere può anche prendere tenere e non tenere la palla bisogna andare sul portiere a coprirlo insomma non ha fatto cosa per la prima ribattuta la ribattuta è rimasta lì penso che l'abbia preso il nostro difensore nel rimpatto è capitata ancora lì voglio chiederti un'ultima cosa nell'ultima fase della partita nell'ultima mezz'ora mi è sembrato che Gasberroni giocasse quasi da centro avanti invece di venire a prendere palla era per motivi fisici o per... ma non lo so sai questo è stato troppo avanti quelli che man mano durante il secondo tempo avremmo anche dovuto cambiare poi dopo perché insomma l'allenamento stas settimana non è stato al massimo e lui deve comunque parare a gestirsi però sai nel momento in cui si pensava di cambiarlo ha fatto quella ha fatto una cosa qua sulla fascia lì insomma sprecchitosa poi l'ha messa in mezzo l'ha messa anche di misura si è fatto e allora sembrava ancora un giocatore in grado di poter una sprazzida venire a prendere la palla soprattutto e venire a prenderla non è che Gasberroni deve fare il regista d'attacco quindi è l'utile di scegliere su con la posizione poi probabilmente tu va la partita un po' più diventi un po' più stanco eh più difficile no? e quando sei più fresco le cose le fai vieni a prendere la palla la giochia quando sei più stanco riposi un po' di più ritorni un po' meno fino poi siamo andati anch'essi sotto e quindi è rimasto fino all'ultimo vento insomma l'ho detto anche io secondo te qua lui alla fine partita mi dice che sarebbe lui da far più un quarto a quattro perché una fascia di là in porta girata anche di circa circa le due e mezza però tutto il resto secondo lui dice che secondo tempo era che era ghiacciato anche in mezzo era più difficoltoso però secondo me ci sta anche poi un po' di stanchezza insomma e quella stanchezza lì non ti dà non ti fa essere lucido nel poter scegliere la posizione perché sai a gas tu che devi giochi fai il regista davanti ignora Fabio Perna che faccia attacco da solo che abbia tu manda prendi palla dai centrocampisti manda dentro il centrocampista dalla parte opposta dove la ricevi manda dentro il terzino dall'altra parte così era un po' l'idea qualche creazione l'abbiamo creata ecco forse è mancato quel pezzettino al finale perché era stanco non l'ha fatto più solo di far gol e bene 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 Grazie.